Chiuse, le porte di casa chiuse, le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. Questa è la sensazione che hanno del mondo degli adulti, un mondo che non vale la pena imitare, non vale la pena interessarsi, piccolo, povero, basso. Allora suona Beccalette, torna a casa, per asciugarsi i piedi si mette, sapete, mette i piedi su un caldano di braccia. Questa è la pagina, secondo me, una delle due pagine più belle del rapporto padre-figli in Pinocchio. E lì si addormentò e nel dormire i piedi che erano di legno gli presero fuoco e ad agio, ad agio, gli si carbonizzarono e diventarono cenere.